Buongiorno a tutti, un saluto alle autorità, un ringraziamento a Guido per avermi voluto coinvolgere e un augurio a tutti quanti per un anno di Rotary splendido per tutti quanti i presidenti. Il telecomando è questo, come Claudia ci ha presentato, siamo chiamati a parlare di questo progetto che mi è piaciuto intitolare in questo modo Rotary for Youth, io ho dato anche un logo, Rotary for Youth, e come avete già sentito da Beatrice, Beatrice nell'enunciare il suo progetto ha messo in evidenza il problema che il progetto vuole risolvere. Questo progetto qua non vuole risolvere un problema, ma sicuramente vuole provare a dare risposta a dei bisogni, bisogni che sono fondamentalmente nei giovani studenti, negli studenti che si apprestano, che stanno per uscire dalle scuole secondarie di secondo grado e che vogliono o andare all'università o affrontare il mondo del lavoro e vogliamo cercare di aiutarli, questi destinatari, come vedete sono gli studenti, cercando di facilitare questa transizione dal mondo del lavoro per andare al mondo del lavoro. Nasce appunto dalla forte collaborazione tra il Rotaract e Virgilio, con la sponsorship del governatore eletto. Io ho lasciato Virgilio in senso un po' più generico, perché Virgilio, diciamo come ha introdotto Claudia, e sicuramente l'associazione Virgilio 2080, l'associazione distrettuale che nasce nel 2013 e adesso vi dico due parole a questo riguardo, ma è anche grazie alla disponibilità, che adesso non vedo più, di Giovanni Battista Mollicone, qualche anno, un paio di anni fa, è stata creata la commissione distrettuale Virgilio. Quindi ho inteso lasciare, in senso, questa ambiguità del nome, Virgilio, perché fondamentalmente questo progetto sarà portato avanti dalla commissione Virgilio insieme al Rotaract, quindi un discorso puramente distrettuale. È ovviamente collaborato, sostenuto da Virgilio 2080, per quello che riguarda gli aspetti legati a quello che Virgilio 2080 può dare. Ecco, a questo riguardo io vorrei appunto dire due parole su Virgilio, perché ancora stamattina, diciamo, incontrando degli amici e dei nuovi conoscenti, mentre prendevo il caffè, e ho chiesto al volo, sai che cos'è Virgilio, e la risposta, per non dirmi di no, quasi in modo per offendermi, è stata quella di tentennare un po' la testa, insomma, non si conosce, non si sa che cos'è Virgilio. Virgilio è un'associazione che è nata appunto diversi anni fa, nel 2013, all'interno del distretto 2080, tant'è che porta il nome Virgilio 2080, ed è un partner, stato così, ha anche un attestato da questo punto di vista, partner del servire nel distretto. Persegue le sue finalità avendo come stella polare, diciamo, in modo particolare queste tre vie d'azione, cioè quella di attenzionare i giovani a cercare di, come vedremo nella prossima slide, di cercare di fargli creare imprese, quindi di svolgere l'azione professionale, che è tipica, il vocation of service, che è tipico del Rotary, e di noi rotariani mettere quindi al servizio le competenze e il tempo, e ovviamente l'interesse pubblico, perché è il momento che si riesce a creare delle nuove imprese, e si agisce sul territorio, e quindi si ne beneficia anche il territorio. Le finalità è appunto un programma di, io lo chiamo poor service, cioè proprio totalmente service, tant'è che noi non maneggiamo soldi, abbiamo i soci che si iscrivono, pagano giusto un filo di 50 euro, quindi potete capire che avendo 40 soci, scusa, all'anno, ringrazio ovviamente l'intervento di Pino Perrone, essendo socio si è subito al mese, all'anno, quindi abbiamo, diciamo, una disponibilità nulla praticamente, dove i soci sono dei rotariani, ecco, io, diciamo, sono soci di club del Rotary, io aggiungo il fatto che devono essere, che è bene che siano dei rotariani, cioè che sentano questa necessità di svolgere questo servizio, iscriversi al Virgilio significa questo, appunto, mettere il proprio tempo, le proprie competenze, in modo volontario, ovviamente a titolo gratuito, a disposizione, non tanto dell'associazione, quanto di queste persone che vogliono creare delle nuove imprese, vogliono intraprendere, vogliono, insomma, affacciarsi al mondo dell'imprenditoria. Come lo facciamo? Lo facciamo fondamentalmente attraverso due cose, anche se la mission centrale, quella che vogliamo definire, diciamo, che definiamo il core business, è quella, ovviamente, di, quello che ho detto prima, accompagnare questi ragazzi attraverso dei tutor, i tutor sono i soci stessi, non tutti, ovviamente, sono dei tutor, perché bisogna avere determinate competenze, che capite bene che per aiutarli a creare impresa non è proprio una passeggiata, è un qualcosa che presuppone ci siano delle competenze specifiche, tant'è che i soci professionisti sono dei professionisti che vengono o dal mondo dell'impresa, o dal mondo dell'azienda, o consulenti, o docenti universitari, ovviamente specializzati in determinati campi, perché parliamo di business, parliamo di organizzazione, parliamo di gestione, eccetera. L'altra cosa che da un po' di anni facciamo è quello di diffondere la cultura d'impresa attraverso webinar e workshop, webinar perché, insomma, prima si facevano dei seminar, adesso si fanno dei webinar, che tutto sommato abbiamo trovato molto più convenienti, molto più agili, molto più facili da portare in giro. Quindi questa è la mission di Virgilio, e coloro che la servono sono appunto i soci rotariani dei club. Ritornando al progetto, appunto, quello che si pone come obiettivo è pensato per fornire una panoramica sulle più recenti proposte universitarie, cioè oggi c'è un fiorire continuo di nuove facoltà, e non tutti sanno che disponibilità ci sia, o si comprendono bene quali sono i contenuti di queste nuove facoltà. Quindi un qualcosa che aiuti i ragazzi a poter scegliere in modo più consapevole, in modo più ponderato. E l'altra è quella di dare una panoramica sulle opportunità del mondo del lavoro, sempre da un punto di vista professionale, perché qui di questo stiamo parlando, perché essendo che stiamo mettendo insieme queste due anime, cioè il Rotaract e Virgilio, ovviamente noi parliamo di professionalità, con un focus specifico per quanto riguarda quelle che sono le questioni d'impresa. Quindi aiutarli a capire se, come alternativa al cosiddetto posto fisso, al mondo del lavoro tradizionale, ci possa essere anche la possibilità di intraprendere. Quello che vogliamo dare, e in modo particolare, è qualcosa inerente all'innovatività. Ecco, questo un attimino, come lo vogliamo realizzare. Si articola in incontri con gli studenti, quindi dobbiamo fare una programmazione, una pianificazione con la scuola. Quindi come vedremo tra un attimo, innanzitutto trovare le scuole, programmare con la scuola, se ha interesse in una cosa di questo genere, andare nelle scuole e parlare, e parlare di università, e parlare di professioni, e parlare di cultura d'impresa. Attraverso queste tematiche, il contesto socio-economico, nuove facoltà, nuove professioni, e l'imprenditoria come competenza, e la valutazione delle attitudini e delle loro capacità, attraverso questo modello europeo di valutazione delle competenze. La metodologia è quella di utilizzare, diciamo, quelli che ho chiamato talks, cioè fare in modo che questi ragazzi incontrino degli esperti che possano fornire sia nozioni per quanto riguarda il mondo del lavoro e della professione, ma anche dell'innovazione. Innovazione parliamo di ambiente, parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di realtà virtuale, realtà aumentata, eccetera. Ho provato a buttare giù qui una tempificazione che ovviamente parte dalla creazione del team congiunto tra i Rotaract e Rotary e il Virgilio per poi affrontare questi vari step che passano per trovare le scuole, per trovare gli esperti e eseguirli. Forse mi fermo qui perché forse ho sforato un pochino il tempo. Io vi ringrazio e spero di vedervi. Grazie.